Ciao! In questo tutorial realizzo un profumatore gel tutto naturale. Lo potrai porre anche nella camera dei bambini senza la paura di fargli respirare sostanze tossiche. Per questo progetto serviranno dei vasetti di vetro, dell'acqua, gelatina in polvere, oli essenziali, sale, coloranti alimentari, piante aromatiche come rosmarino, mirto, alloro, e per dare colore il mandarino cinese. Inizio col preparare tutto ciò che mi occorre, i vasetti. Preparo il primo vasetto con del colorante alimentare e l'essenza preferita. Nel secondo vasetto solo l'essenza preferita. Posso preparare il mio gel. Metto 250 ml di acqua nel pentolino insieme a un cucchiaino di sale. Mescolo. Aggiungo il gel in polvere e mescolo. Tenere sempre in considerazione le istruzioni riportate nella bustina. Metto a cuocere. Porto a bollore per un minuto, sempre mescolando, fino a che il gel non sarà pronto. Verso il gel ancora caldo nei vasetti e realizzo le mie composizioni. 遍 Metto a voce Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.